...ai palchi, nei concerti rock e noi non vogliamo che parta militare quindi tutta quest'area, se per favore si avvicina un po', riusciamo a fare due passetti dai, dai Gigi, vieni qua, vieni qua, vieni qua, dove? Sempre con sta birra nelle mani forza, un passetto in qua, un passetto in qua, tutti quanti là dietro, forza dai Stefi, vieni qua, d'ho vista sai, facciamo finta che non ci conosca nessuno in realtà, tutti amici, un pubblico di amici, in realtà almeno la metà mi stanno sulle balle però, non è carino dirlo, allora, così pochi? Su, su, quelli da dietro, che fanno? è un concerto rock and roll questo, via, qua davanti, qua davanti, voi, voi? Cane, vai a margò, vai a mordere quella ragazza con la maglietta nera che sta guardando, cane, margò, vabbè, dai, così è un po' più accettabile, si può fare, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo, io and Sebastian Punk, abbiamo un'intenzione un po' perversa, quelli di mandarla a casa di tutti, siamo i Beppe Grillo del rock and roll, questa è intitola a Stronzi, buona serata.